qui dentro la pasta si sta cuocendo col metodo ippoliti il battezzato così metodo fornelli spenti che vi ho fatto vedere qualche giorno fa qui la scolerò così posso utilizzare l'acqua di cottura per farmi legumi stasera ma qualche giorno fa facendo la stessa cosa praticamente ma è caduta una lenticchia dentro al lavello quello dove metto in ammollo le pentole i vasetti prima di lavarli ecco quello che ho trovato qualche giorno dopo che ovviamente ho lasciato lì ho visto spuntare questo germoglietto l'ho lasciato crescere così mi farò la mia piantina idroponica di lenticchie non so se arriverà a produrre qua in casa ma ci proviamo tanto questo è un lavello dove metto solo la roba in ammollo di acqua gliene arriva sempre ogni tanto qualche residuo di marmellata come in questi casi comunque qualcosa da cui poter trarre qualche nutrimento in più al massimo ci arriva qualche goccia di sapone artigianale non sono quelle industriali quindi visto anche sull'erba che non fa male e vedremo che cosa succederà